La regione cambia idea e dice sì al metanodotto SNAM Sulmona Foligno. Il governatore Marco Marsilio ieri ha dato parere favorevole nel corso di una riunione convocata dal ministro Cingolani. Una decisione che ribalta la posizione dell'Abruzzo. Infatti regione, provincia, comune di Sulmona, dove SNAM realizzerà una centrale e altri enti, avevano presentato ricorso contro l'opera, ricorso poi bocciato dal Consiglio di Stato. E ora il voltafaccia è destinato a generare sconcerto in Valle Peligna, dove associazioni e comitati si sono per anni opposti al progetto. E non solo loro. Un anno fa Eni ha pubblicato le osservazioni al piano decennale SNAM 2020-2029, giudicando inutile l'opera. Il metanodotto infatti costerebbe 1,9 miliardi di euro, che secondo la società per azioni sarebbero recuperati in 40 o 50 anni tramite ulteriori aumenti dei costi in bolletta. Sarebbe per giunta un'infrastruttura di cui beneficeranno principalmente altri paesi europei, ma che rischia di essere pagata dai consumatori italiani. Marsilio ha cambiato idea senza interpellare il Consiglio regionale, lamentano i consiglieri di opposizione. E il tutto mentre il consumo di gas fossile è destinato a diminuire, così come stabilito anche dalla transizione ecologica prevista nel PNRR. Lo dicono i numeri. Il picco di consumo di gas fu raggiunto nel 2005, quando l'Italia consumava 86 miliardi di metri cubi l'anno. Da lì il consumo si è ridotto di circa un miliardo di metri cubi ogni anno. Vi è poi la questione ambientale, delle specie protette che abitano i parchi nazionali che saranno attraversati dal gasdotto e quella sismica, in quanto la centrale a spinta e compressione sarà realizzata a due passi dalla famigerata faglia del Morrone. L'intesa è un atto proprio politico, politico nel senso di valutazione dei benefici per la comunità di un'opera. Questa è un'opera fossile ed è veramente incredibile che in piena crisi climatica si parla di siccità, si parla di problematiche ormai evidenti a e più, non si riesce praticamente in Pianua Padana a coltivare quasi più nulla. Adesso dobbiamo puntare nel futuro su un nuovo gasdotto che ripeto porta metano che dovrà essere attivato a fine, fra dieci anni sostanzialmente e poi agire per fino al 2080 addirittura perché un gasdotto dura 50 anni come vita tecnica e noi dobbiamo abbandonare le fossili adesso. L'opera è compatibile sotto il profilo tecnico e amministrativo, si difende Marsilio. Se avessi detto no avrei commesso un falso ideologico e poi il governatore attacca gli oppositori, il PD sia coerente e voti la sfiducia a Cingolani, conclude Marsilio. Bisogna considerare inoltre che l'infrastruttura oggi ha una ragione nuova ovvero la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la riduzione delle forniture che giungono dall'est. Prima che il gasdotto Snam entri in funzione però bisognerà attendere una decina d'anni.